Orecchio, parte seconda, malattie dell'orecchio esterno. Partiamo subito con i corpi estranei, che di solito non danno sintomatologia, possono al massimo dare flogosi, nei casi peggiori ipoacusia, ma li vediamo subito con la otoscopia. Poi parliamo di malformazioni, le quali sono il coloboma, cioè la suddivisione del lobo in due parti, la fistola auris congenita, l'orecchio ad ansa, cosiddetto. Poi abbiamo la atresia auris congenita, quindi atresia auris congenita, patologia malformativa che consta di anotia, cioè l'assenza dell'orecchio, poliotia, cioè più orecchie, più appendici cartilagine, e macrotia o microtia. Si commentano da sole. L'80% è unilaterale ed è associata ad altre malformazioni per quanto riguarda l'atresia auris, conseguente ad un'anumalia di sviluppo ovviamente, del primo e secondo arco branchiale per quanto riguarda il padiglione auricolare, del primo solco branchiale per quanto riguarda il condotto uditivo esterno. Nell'ambito dell'atresia parliamo anche della sindrome di Trecker-Collins-Franceschetti, dove c'è un'associazione della malformazione dell'orecchio con quella delle altre strutture del primo arco branchiale, per esempio la mandibola. Comunque l'atresia auris congenita causa un deficit uditivo trasmissivo di media entità, la malformazione è evidente all'esame obiettivo, l'audiometria tonale non fa che confermare quello che abbiamo detto e l'attack dimostra la sede e la tipologia della malformazione. La terapia ovviamente se l'atresia è bilaterale si mette una protesi auricolare a trasmissione per via ossea, oppure possiamo fare anche interventi chirurgici ricostruttivi. Oltre a queste patologie abbiamo le forme traumatiche che sono relative di solito a penetrazione di corpo estraneo con lesione della cute e conseguente otorragia, se si forma una crosta abbiamo anche l'ipoacusia. Poi abbiamo l'otoematoma, cioè il versamento ematico tra il pericondrio e la cartilagine nella metà superiore del padiglione auricolare. È conseguente a un trauma con direzione tangenziale e visibile obiettivamente come una tumefazione rossoviolacea tesoelastica. La terapia è una puntura evacuativa. Le forme flogistiche ci interessano molto meno sono l'ezema, l'impetigine, l'erissipela, il foruncolo, poi più importante magari la condrodermatite nodulare dolorosa dell'elice. Parliamo di otiti esterne, che sono patologie flogistiche per lo più su base batterica, della cute e del condotto uditivo esterno, ma anche della superficie esterna timpanica. Di solito d'estate sono il 50% delle patologie flogistiche dell'orecchio e sono date o dallo pseudomonas, dal 20 al 60% dei casi, o dallo sintomatologia è classica. C'è sempre la solita otorrea purulenta, c'è un intenso dolore spontaneo, quindi c'è otodinia e c'è ipoacusia di lieve media entità, perché abbiamo le secrezioni. All'esame obiettivo l'otoscopia ci fa vedere l'iperemia e l'edema della membrana timpanica, che comunque è mal visualizzabile, e abbiamo anche come terapia gli antibiotici, le cefalosporine, vediamo per 8 giorni. Dopo l'otita esterna parliamo dell'otita esterna bolloso-emorragica, che è invece di natura virale, infatti abbiamo bolle a contenuto siero-ematico della membrana timpanica, la sintomatologia anche qui è otorragia, abbiamo otalgia e senso di ovattamento auricolare. La terapia è sintomatica, abbiamo gli antinfiammatori analgesici, eventualmente antibiotici, antinfiammatori analgesici e eventualmente antibiotici, comunque otorragia, otalgia, senso di ovattamento, bolle siero-ematiche. Poi l'herpes zoster oticus, che è praticamente l'affezione flogistica da riattivazione del virus herpes zoster, interessa soprattutto il nervo facciale e dà quindi delle lesioni cutanee a livello della conca, sono vescicole fondamentalmente. Il sintomo è in linea di principio l'otalgia, nei casi più gravi parliamo proprio di paralisi, si può associare a paralisi del facciale, con sororità improvvisa se è coinvolto il nervo cocleare e crisi di vertigine oggettiva se è coinvolto il nervo vestibolare. Diamo la ciclovir e corticosteroidi associati ad analgesici. Micosi del condotto uditivo esterno, qui parliamo di dermatite su base micotica, date favorite da clima caldo-umido, dalla candida albicans oppure dalla spergillus fumigatus e flavus. I fattori favorenti sono anche qui gli antibiotici e i corticosteroidi, i sintomi sono sempre i soliti, otorrea o vattamento e prurito auricolare. Se andiamo a fare l'esame otoscopico vediamo proprio le ife fungine bianche, quindi si fa il tampone auricolare, si fa la pulizia, si danno gli antimicotici, i midazolici ed eventuali antifibrotici. L'otite esterna maligna invece è una patologia flogistica del condotto uditivo esterno, ha un'evoluzione necrotizzante a carico dell'osso temporale, sia in clima caldo-umido, nei soggetti soprattutto anziani, diabetici, immunodepressi, è favorita dallo pseudomonas eruginosa, anzi è causata dall'eruginosa, da otorrea purulenta e paralisi dei nervi cranici in fase avanzata, con rischio anche di tromboflebite, dei seni venosi della dura endocranici, quindi otorrea, paralisi dei nervi cranici e tromboflebite. La TAC e la scintigrafia sono utili per vedere, soprattutto la scintigrafia, la flogosi e l'osso temporale, si fa il tampone auricolare per rilevare il microrganismo responsabile e poi abbiamo la terapia antibiotica a base di penicilline e ocefalosporine più aminoglicosidi per sei settimane. Nei casi più gravi la terapia può essere chirurgica con mastoidectomia radicale, addirittura si arriva alla petrose ocectomia, il rischio di morte per questa patologia è fino al 50%. Le forme su base iperproduttiva di patologie dell'orecchio esterno sono i tappi ceruminosi prevalentemente, che si commentano da soli in termini di definizione, sono la causa più comune di visita otorinolaringoiatrica e si hanno per un accumulo di cerume dato o da un'iperproduzione, o per una modificazione del contenuto del cerume, oppure perché c'è proprio una ridotta capacità di autodetersione del condotto uditivo. Il risultato è un senso di ovattamento o proprio una vera e propria ipoacusia, perché il cerume è peraltro un materiale microscopico, quindi quando il soggetto fa la doccia a contatto con l'acqua aumenta di volume e quindi ci senti ancora meno. La terapia, allora si fa l'estrazione del tappo con il lavaggio del condotto a siringa, un concorrente reflua. Se sospettiamo la flogosi o la perforazione rimuoviamo il tappo in otomicroscopia. Se è di difficile estrazione andiamo invece, prima del lavaggio, a fare acqua ossigenata o dare sostanze ceruminolitiche. Le complicanze quali possono essere o la mancata estrazione, oppure una perforazione timpanica, la vertigine, l'otite esterna su come complicazione, ferite dell'acute del condotto, quindi mancata estrazione, perforazione del timpano, vertigine, otite esterna e ferite dell'acute. Concludiamo le patologie dell'orecchio esterno con le forme neoplastiche che possono essere esostosi o osteomi. Queste ultime sono di natura benigna nel lume del condotto uditivo esterno, sono prevalentemente asintomatiche e favoriscono semmai un accumulo di cerume, detriti, corpi estranei. Dal punto di vista otoscopico, le sostosi, è una diffusa stenosi del condotto, di natura ossea ovviamente, e ovviamente tutto può esitare in un senso di ovattamento o ipoacusia. L'osteoma, allo stesso modo, è un dato invece da neoformazioni tondeggianti che aggettano nel condotto. Il deficit uditivo che ne consegue è trasmissivo e la terapia chirurgica con exeresi dell'osso neoformato per via transmeatale o retroauricolare. I tumori benigni del condotto uditivo esterno quali sono? Sono rari. Abbiamo l'adenoma ceruminoso e l'adenoma pleomorfo di origine ceruminosa, quindi o il ceruminoso o il pleomorfo di origine ceruminosa. I tumori maligni sono il 70 invece per cento dei tumori dell'osso temporale, però sono tra i più rari in assoluto. Un fattore favorente è la flogosicronica a carico della cute. Il problema tumorale parte proprio dalla cute del condotto uditivo esterno, tant'è che si parla o di carcinoma squamo cellulare o di vaso cellulare. Il vaso cellulare ha più bassa malignità, lo squamoso è più aggressivo anche in termini di metastasi linfonodali, quindi più di rado abbiamo gli adenocarcinomi appunto anche qui da ghiandole ceruminose, i melanomi, i carcinomi adenoidocistici, gli adenocarcinomi ceruminosi, quindi o adenocarcinomi da ghiandole ceruminose o proprio gli adenocarcinomi ceruminosi, oppure i carcinomi adenoidocistici oppure i melanomi. Classificazione TNM sempre il solito, T1 inferiore a 2 cm, T2 tra 2 e 5, T3 oltre i 5 cm, T4 quando c'è un coinvolgimento delle strutture extradermiche. N0 no linfonodi, N1 ci sono, laterocervicali soprattutto, e parotidei. M1 ci sono metastasi, M0 non ci sono. Dal punto di vista sintomatologico questi tumori sono silenti nelle fasi iniziali, abbiamo fenomeni al massimo ulcerativi e flogistici con conseguente otorrea mucopulenta o addirittura ematica, quindi otorragia. Quando c'è l'occupazione del condotto si arriva proprio alla ipoacusia, quindi abbiamo metastasi, come dicevo prima, soprattutto linfonodi, parotidei retroauricolari e laterocervicali, però quello che adesso al momento attuale ci interessa di più è all'esame otoscopico, la visione di neoformazioni vegetanti, ulcerate, sanguinanti e la diagnosi viene fatta ovviamente con biopsia, quindi vegetanti, ulcerati, infiltranti, sanguinanti. L'attacca e la risonanza magnetica servono per lo studio della neoplasia e la risoluzione è con exeresi, cioè spesso con sacrificio del padiglione auricolare è associata anche all'exeresi dei linfonodi parotidei e laterocervicali, eventualmente anche petrosectomia. La prognosi è correlata all'estensione ovviamente e alla presenza di metastasi linfonodali, la sopravvivenza a 5 anni varia dal 90% delle forme lievi al 15% delle forme avanzate, comunque il tutto valutabile con il performance status di Karnofsky.